Grazie a tutti. 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 Ciao. 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 No, sta benissimo, carino! E che giurato, però... Allora, come disse Shakespeare... Questa è la tua propria promessa. Perché mi fai disegno? Guardate... Guardate... Come disse Shakespeare, se non ricordi che l'amore ti abbia fatto mai commettere la tua piccola ufonia, allora non l'hai mai amato. E tu sei la mia ufonia più grande. Tu sei la tua figlia e tu sei la ragione stessa della mia esistenza. Mi amo. La mia promessa è la più semplice, forse da più scontato. La cosa speciale è la più difficile quella di essere romano. Per cui amarti, amarti per sempre è la mia promessa. Essere sempre, esserci sempre, in qualsiasi momento. Abbiamo sperato già quelle difficoltà e anche momenti splendidi, attivi diversi, attivi difficili. Contento con quella cosa più importante. Il valore di essere una famiglia. E magari... Io ho l'abbraccio, io voglio leggere, non è più fuori. Il... Ho fatto un percorso che è un po' più lungo di quello che si fa per arrivare a capire queste cose. Insomma, mi fa piacere che siete tutti qua. in vari modi, fate tutte le parti della vostra vita. Ma io non mi invitarvi speciali a questa testa. Sono sicuro, dalla sub-siguarda, i miei vittori, non sono... Non ci sono. E... Però... Aggiungo una promessa, forse la più importante è uno scritto. Per i miei vittori, a me e many of them sono molto semplici, molto normali, che... Non può avere solo di trasmettere dei valori molto importanti. Più con l'esempio che con la parola. Per una persona molto, estremamente semplice. Che hanno dedicato... non avevano... Ambizione, non avevano un dire. Avevano solo un'ambizione. Che le loro figlie fossero felici e delle superiorità. Felici. Io forse, mentre ero in vita mi ha dato questa soddisfazione. Grazie a Natalia, in rasmin, diciamo, fuori tempo massimo, magari, so che da lassù ci guardano e saremmo sicuramente felici. La mamma dirà, anche il piccolo, perché ero piccolo, come stato detto, si è messo a posto. Quindi la promessa è che un sapore e siamo compati, se volete smettere a Edoardo, le cose che avevo messo lì, sono innanzitutto l'onestà assoluta, sempre. L'onestà intellettuale, l'onestà bella vera, l'onestà di essere onesti, di rispettare il prossimo, di amare gli altri e di avere una visione del mondo aperta in cui tutti siamo parte di una grande famiglia e non chiede se stessi stessi stessi, parte di un progetto più grande. Io non direi l'egoismo e le cose più importanti, sono contento che la mia famiglia non mi abbia lasciato soldi. Abbiamo ben lasciato questi valori che sicuramente creano un super uomo e anche tu avrai questi super poteri. Grazie. Mi sono leggermente emozionato. Sì, è perché ho sbagliato male. E' questa? Ah, è quella. Grandi. Entra, entra. In favore di telecamera. Ti prometto che non sarò mai costante. Tu saprai amarmi con le mie follie e sbalzo. Ti farò arrabbiare come solo lo so fare. Ma so che nei miei sentimenti sono sicura e ci sarò per sempre. Ormai mi conosci. Conosci i miei pregi, i miei difetti, le mie ansie, le mie stranze. E so che solo tu nei momenti difficili mi puoi rassicurare come hai sempre fatto. Mi sorriderai e mi dirai che andrà tutto bene. E potrò farci. Non ti prometto che sarà facile. Ma sono qui se vuoi, per schiare. Sono qui e ci sarò per sempre. Ti amo. Ancora presto. Ancora presto. Ancora presto. Paolo, intendi di prendere il moglie da qui presente Natalia? Sì. Natalia, intendi di prendere il sposo di qui presente Paolo? Sì. I signori testimoni hanno sentito la risposta affermativa? Sì. Bene. Vi siete baciati milioni di volte, ma il bacio che state per tami ora avrà un sapore diverso, perché sarà il sigillo del vostro amore infinito, proprio come gli anelli che vi siete appena scambiati. E allora, dopo queste bellissime dichiarazioni d'amore eterno, sono lieta di presentarmi al mondo come marito e moglie. Paolo, prima c'è la sua. Oltre che l'accelerante, sono una viaggiatrice di carattere lavorata del mondo, che come tale per augurare, e so anche a nome di tutti, a Paolo e Natalia, un buon viaggio per questa nuova avvertire insieme. che la vita possa sempre indicarvi alla strada giusta, per provvedere aiutandovi, sostenendovi, litigando, facendo pace, ma sempre rimanendo quei stessi, senza mai dimenticare che siete due, ma che siete insieme. Gli spazi hanno preparato un benedizioso aperitivo lounge, a cui seguirà la cena per festeggiare con tutti voi il loro patrimonio, quindi grazie per aver partecipato a questa meravigliosa cerimonia e aver reso un'impa e indimenticabile questo giorno. Grazie a tutti. Per un attimo di attenzione prima che partiamo con festeggiamenti, voglio ringraziare tutti voi di essere qui con noi questo giorno, innanzitutto i miei venitori che mi hanno sostenuto sempre in qualsiasi cosa e in qualsiasi mia decisione. Ringrazio di cuore mia sorella, il mio primiato Graziano, ci conosciamo, credo, una vita e vi ricordo sempre e vi ringrazio di averci ospitati appena ci siamo conosciuti a casa vostra, abbiamo passato bellissime terte insieme. Vorrei ringraziare mia amica Tania che è arrivata qua questo giorno da Genova, ci conosciamo con una vita, serve una storia da raccontare. mia amica Andra che è la mia cizia nata al lavoro grazie alla quale mi ha dato il coraggio di cambiare il lavoro e sono arrivata a fare il lavoro che faccio adesso e quindi ringrazio la mia seconda famiglia, le ragazze di La Perla perché passiamo più tempo al lavoro proprio a casa e quindi mi conoscete benissimo e abbiamo passato anche i momenti belli, i momenti un po' meno belli ma ciò possiamo fare. Desi ti ringrazio di essere venuta qui perché anche un'altra amicizia è nata al lavoro che comunque la portiamo avanti anche se ci sentiamo un poco, Lucio come se fosse secondo fratello di Paolo, quindi quello che non ha mai avuto Claudio che è diventato il nostro padrino, Andrea Scasi che era per primo a salutarmi per noi quando sono arrivata a Genova quindi in qualche modo ha un'accoglienza di una piccola cittadella ecco e Pier sei uno di famiglia insomma ogni volta che chiamo secondo di la voce, sai tutti i miei problemi, mi lamenti e le migliaia di consigli ormai, così fosse due mariti sempre, qualcuno mi dà sempre dei consigli. Angela e Bruno siete in qualche modo rappresentanti di mamma e papà di Paolo che non ci sono più che avrebbero voluto vederci così felici e Paolo ha raggiunto un tragitto molto importante. Senatore Bondi, la signora ringrazio tantissimo per la vostra presenza, ragazzi di Danibel, e saluto tutti una mia terza famiglia perché la prima la mia famiglia, poi la perla e poi i ragazzi di Danibel che comunque mi hanno conosciuto ad Aquila e mi hanno colpa a braccia aperte e niente, ringrazio tutti, buon spero di… Sì, c'è qualcuno, c'è qualcuno… Controlla bene, ho rispondito… Grazie! Vai, grazie a tutti… Dai, grazie a tutti… Vai, grazie a tutti… Vai, dai, vai come papà… Grazie a tutti, andiamo a un'altra Grazie a tutti 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 Grazie a tutti